L'Italia del Memusciai, un ritorno alla vittoria del Pescara, una gran prova contro il Pordenone, come si spiega questa metamorfosi? Sì, è una bella vittoria però dove bisogna continuare perché lunedì abbiamo una partita importantissima dove se si vince si può dare grande risalto anche alla vittoria col Pordenone. Ecco, con le grottaglie cosa è cambiato? No, è cambiato, forse ora siamo un po' più spensierati, giochiamo un po' tranquilli, solo quello. Ecco, la cosa che ha sorpreso è proprio la continuità che ha avuto il Pescara, bel gioco ma proposto per tutti i 90 minuti. Sì, però devo dire che abbiamo fatto anche altre gare belle come Benevento, Pisa, Empoli, quindi bisogna continuare, bisogna dare continuità. Ecco, appunto il Cosenza è una squadra che sarà affamata di punti perché in bassa classifica c'è un Braglia che probabilmente si gioca la panchina, cambierà anche il tipo di avversario che incontrerete? Sì, rispetto a Pordenone magari troveremo una squadra un po' più chiusa, una squadra dove ci lascerà pochi spazi, però bisogna approfittarne anche di quei pochi spazi per fare male. Ecco, bisogna anche tornare a fare risultati importanti all'Adriatico, manca un po' la grande prestazione in casa, ormai sono forse più di due mesi. Sì, è un peccato perché... Come si spiega? Non lo so come si spiega, è un peccato solo perché in casa abbiamo sempre fatto bene rispetto alle ultime 4-5 partite, quindi è sempre stato nostro fortino e deve ritornare ad essere quello. Obiettivo play-off? No, obiettivo lunedì sera. Senti, Regian, tornando un attimo indietro, c'è qualcosa che ti ha dato fastidio, che hai sentito di quella vicenda che ti ha interessato in prima persona con Zauri? Qualcosa che ti ha dato fastidio e che invece non era effettivamente vero? Perché noi la tua versione non l'abbiamo mai ascoltata. Infatti è quello che hanno parlato tutti, ho letto tante cose, però l'unico che non ha mai parlato sono stato io. Cosa ci puoi chiarire? No, lasciamo stare. Ora è importante la partita di lunedì, non è importante quello che è stato, però si sono dette tante cose dove di vero c'era veramente pochissimo. Cioè tu non hai mai pensato di andare via da Pescara in pratica? No, 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 ma io sto bene qua, non vedo il motivo. Sul rapporto con Zauri ai tempi? Ma qui purtroppo fa parte del calcio, ho sbagliato perché non dico, però ho sbagliato e ho pagato. Però una cosa vuol dire poi basta, che quella sfuriata non era per la sostituzione perché alla fine ho sempre giocato, dopo due giorni c'era un'altra partita quindi non c'era modo di arrabbiarmi perché malevava, perché sono stato sostituito. Anche perché mancava poco, vincevamo e fra un giorno e mezzo c'era un'altra partita. Ma a volte penso che non c'è bisogno di chiarirsi, penso che a volte bisogna, ognuno deve fare, io devo dare il massimo, devo fare il mio lavoro e dare il massimo e lo stesso anche gli altri. Non c'è bisogno a volte di chiarirsi per forza, l'importante è che ognuno dà il massimo e basta.